I giorni passano ma la delocalizzazione delle fonderie Pisano e la riapertura dello stabilimento di Fratte continua a segnare il passo, con il rischio che i 120 operai possano definitivamente restare senza lavoro. Per sollecitare nuovamente la magistratura a decidere sul dissequestro della struttura, sulla scorta dei dati ARPAC ritenuti positivi dall'azienda, i lavoratori sono tornati a presidiare, come ogni giorno o diverse settimane a questa parte, l'ingresso del Tribunale di Salerno, facendo risuonare simbolicamente le sveglie sui loro telefonini per ricordare l'inesorabile trascorrere del tempo che rischia di condannarli a morte lavorativa. A sollecitare il Tribunale e a decidere anche i sindacati. Ormai da diverso tempo facciamo presente questa problematica. Il fermo così lungo sta comportando man mano a far scomparire le commesse e quindi la possibilità non solo di una ripresa produttiva ma anche la possibilità di ragionare di delocalizzazione. Noi ovviamente questa strada non l'abbandoniamo, anzi abbiamo inviato una richiesta di incontro sia al sindaco di Campania, di Eboli, ai sindaci delle aree limitrofe e abbiamo saputo che c'è una disponibilità tramite la stampa del sindaco di Campania di riceverci per parlare delle questioni del lavoro. Noi non vediamo l'ora di poter vederci con lui, esporre tutte le problematiche che stiamo affrontando in questa provincia e poi affrontare ovviamente anche il tema delle fonderie. Per la FIOM intanto sarebbero soltanto ipotesi quelle di una delocalizzazione a Solofra anche se confermerebbero che da altri territori fuori dalla provincia di Salerno c'è interesse per l'episano, una eventualità secondo i sindacati da contrastare per proteggere i lavoratori. Da che ci risulta? Ovviamente sono ipotesi che prendiamo anche noi dalla stampa quindi lo voglio dire in premessa. Da che ci risulta? La zona di Solofra in particolare pare che per la zona industriale comunque ci sia un vincolo alle industrie strettamente legate alla concia quindi lì la vedo un'ipotesi un po' particolare. Poi tutti gli approfondimenti si possono sempre fare. In ogni caso noi ci terremmo a mantenere questa produzione nella provincia di Salerno esplorando eventualmente laddove non ci siano le condizioni per campagna altri siti in modo che comunque si mantenga questa industria e questo lavoro qui in provincia.